Una sfirata di statue e raffiguranti divinità assire portate in processione da animali mitologici. Siamo in Iraq settentrionale, nella regione del Kurdistan, e a ritrovare questi enormi pannelli contenenti rilievi rupestri risalenti probabilmente al 700 a.C. è stata una missione dell'Università di Udine guidata dal professor Daniele Morandi Bonaccossi. E' un ritrovamento eccezionale, anzitutto perché i rilievi rupestri assiri sono estremamente rari. Gli ultimi rilievi rupestri assiri a essere scoperti nella zona, quindi nell'Iraq settentrionale, furono scoperti poco meno di due secoli fa dal corsole francese Amosu, Simone Rue, nel 1845. I rilievi, scolpiti e rinvenuti all'interno di un canale di irrigazione di cui celebravano la costruzione, fanno parte delle centinaia di siti che la squadra di Bonaccossi ha individuato e mappato nel territorio della Piana di Ninive. Ma gli scavi hanno dovuto attendere perché nel frattempo a una manciata di chilometri si è insediato per quattro anni lo Stato Islamico. Il sito di Faida sorgeva veramente molto vicino al fronte, a solo 20 chilometri di distanza, e quindi abbiamo ritenuto non opportuno scavare questi rilievi perché naturalmente sottoterra i rilievi erano protetti da qualsiasi forma di distruzione, ma soltanto da parte di daerci, ma anche da parte di scavatori clandestini, forme di vandalismo. E di pannelli come questi sottoterra Bonaccossi è certo ce ne siano ancora molti. Obiettivo della sua squadra ora è riprendere gli scavi quanto prima.